Salve a tutti amici, benvenuti in questo video su come fare soldi facili su Starfield, come fare soldi velocemente, eccetera eccetera. Allora, ci sono, sì, è vero, tantissimi modi, chiunque vi dirà tutta una serie di cose, un elenco infinito, io mi concentrerò su qualcosa che possa farvi fare soldi il più velocemente possibile, che non vuol dire dall'inizio del gioco. Perché la prima cosa che dobbiamo fare all'inizio del gioco è una sola, fare tante missioni secondarie, tante missioni, perché comunque quelle fanno soldi, e fare abilità perché la prima cosa che dobbiamo fare è sfruttare bene alcune abilità per poter fare più soldi. Allora, innanzitutto, la cosa più importante è quella del commercio, quindi l'abilità del commercio va portata più su possibile, poiché questa ci consente di vendere e fare più soldi e anche spenderne meno per acquistare, quindi questa è una delle prime su cui investire se volete andare avanti con questo sistema. E dovete vendere tanto perché comunque ci sono delle sfide da superare per poter andare avanti con i gradi. Poi c'è, sì, ovviamente il saccheggio, che vi consente di trovare più crediti nei contenitori, e il furto, che ancora non ho sbloccato, comunque questo permette di borseggiare i bersagli, ed è una cosa per fare, sì, qualche soldo, magari salvate prima di borseggiare, ma perché non l'ho neanche abilitata? Perché il sistema più efficace che ho visto è andare in giro per l'universo, andare per posti nascosti, posti dove ci sono nemici, rubare un po' tutto quello che troviamo nei bauli, e a proposito di questo, un'altra abilità che vi serve tantissimo massimizzare è... mi ricordo mai la categoria? No, sarà qua in scienza. No, neanche. Sicurezza, questa. Dovete cercare di poter arrivare, almeno al grado 3, per poter andare a violare le serrature di livello arduo, così quando andate in giro in questi posti con i nemici, trovate tanta merce rara e di contrabbando. Fra poco ne parliamo. Quindi, quando andiamo in giro nei posti, dovete cercare di prendere un sacco di roba che ha un valore da 200-300 crediti in su, tanta roba. Questo già vuol dire che vi farà avere un peso maggiore nell'inventario. Ecco perché io ho massimizzato il prima possibile il sollevamento pesi, per poter avere più carico totale nell'inventario. È vero, c'è la nave, ci può servire come carico, come inventario, c'è il compagno, però insomma, ecco, questo è molto molto comodo per non poter rallentare, per non dover rallentare, perdere ossigeno, non poter fare viaggi rapidi, eccetera, eccetera. Quindi, ci siamo. Una volta che abbiamo preso tutta la merce che ci serve, non andate in giro così a caso tra i venditori, sì, cioè, se li trovate bene, però tanta merce, non la potete vendere ovunque, ma alla trade authority, soprattutto la merce di contrabbando. Ho fatto un video a parte, sulla merce di contrabbando, non fatevela requisire, ma non appena avete un bel po' di roba o merce di contrabbando, recatevi sul sistema lupo che sta accanto al sistema solare e ad alfa centauri. Quindi andate subito qui, fate un salto, evitando di farvi scansionare sui pianeti, se cominciano a scansionarvi, fate subito il salto, non aspettate, arrivate qui, dove c'è la den. Questa è una piattaforma su cui potrete attraccare senza farvi scansionare e qui trovate, subito all'inizio, allora questo è l'inizio, sì, ok, avanti, sulla sinistra. Trovate questo tizio che ha 11.000 passacrediti. Ora io, gli ho già venduto un po' di roba, quindi l'ho un po' lasciato al verde, però, questo negoziante vi consente di vendere un sacco di roba, non solo vostra, ma anche dalla nave. Quindi cominciamo a vendere merce di contrabbando e ci facciamo soldi da 7.000 a 10.000 in su, facilmente, infatti ho portato i miei crediti a 78.000 da 1.000 che erano, vendendo un po' di roba. E possiamo vendere tutte quelle cose che troviamo in giro per l'universo, anche roba illegale, roba che abbiamo rubato. Quindi, se trovate merce che costa, rubate, prendete tutto quello che ha un valore e poi andate da questo commerciante per andare a vendere tutto. Con l'abilità commercio poi sarà ancora meglio, però, mi raccomando, questo è il sistema secondo me più veloce per fare soldi. Poi, sì, le missioni secondarie, fare tutto il resto, però, sono tutte cose che vi distolgono dal giocare, dall'obiettivo. Cioè, fare tutta una serie di, non lo so, le missioni, quelle della bacheca, le cose che si ripetono, sono cose che poi vanno ad annoiare o a perdere. Quindi, la cosa migliore che vi consiglio è non perdervi, ma continuare con l'esperienza di gioco. Semplicemente, però, questi accorgimenti. quando andate in giro, quando fate missioni secondarie o non, o quando esplorate i pianeti, dovete soffermarvi a cercare oggetti rari e soprattutto scassinate, scassinate, come se non ci fosse un domani, perché trovate oggetti rari e oggetti di contrabbando, che poi potete venire qui. Questo è il sistema, secondo me, più rapido e facile per fare soldi su Starfield. Ce ne possono essere altri, le cose sono anche soggettive, quindi capisco se qualcuno di voi mi dirà, ma secondo me è meglio fare così, ci sta. Comunque ragazzi, provate e fatemi sapere. Ah, una cosa, quando andate da lui o da qualsiasi mercante, se non ha più soldi perché gli state vendendo troppa roba, fermatevi su una sedia e fate aspetta B, aspettate 24 ore, poi di nuovo lo rifate, altre 24 ore, ritornate da lui, i crediti saranno resettati. Questo è il consiglio che vi posso dare. Buon divertimento.